...hanno caratteristiche diverse, però nella mia idea potrebbe essere un grande trequartista. Nella mia idea del calcio non è una punta, non è neanche una mezzala, solo l'aviale è un trequartista. Si può fare questo? No, non si può fare questo. Sei un grande, hai capito? No, è troppo uno, si può fare questo. Non si può fare questo, non si può fare questo. Non è troppo uno, ma è troppo uno, ma è troppo uno. La vita si può vincere, si va leggerla, si va leggerla... A noi ci interessiamo. Noi ci veniamo in vai. Noi vincevamo per chi ci va. Ma perché io credo che il rispetto della gente ci è accostato? Noi ci sono f***a, la casa lui ci può vincere. Procedendo. Se no tu ci conosci, con mazzone nel caso 50, 50, 50... Quindi ti dico, quando non c'è morta... La gente deve... Se ci fanno le guerre, avendo il canale armato... ... ...